Oh? Perché siamo alla Vandonia? Ah non lo so, diglielo tu Eeeh... perché... ve lo spiega la mia squadra Ecco perché Allora, questo... questo grande genio del male Si è dimenticato che non c'era abbastanza spazio Nella memoria del suo PC la prima volta La seconda volta non... l'audio... cos'è uscito male? No, allora la prima volta non è che mancasse lo spazio ma è cresciato Camtasia E la seconda volta invece abbiamo avuto problemi con gli host e non host e fanculo il mondo Io intanto vado da Erika che altrimenti qui c'è o bello Aspetta che vi faccio vedere il nostro Avon Eccolo qua che nel tempo libero si diletta nel cambiare i nomi di Pokémon C'ha una laurea, sapete? Ecco il vecchietto pervertito E questa... questa ponestra è piena di ragazze Avvolgi botta più il veleno è veramente qualcosa di... stronzo Ignobile Da senza pal... Ma tu sei lì ancora a rinominare i Pokémon dal tipo con lo sprite unico? Ne mancano due Ok E immagino dovrò aspettare di vedere l'editing per saperli Naturalmente perché io ti odio Grazie, ti amo anch'io Eccolo qua, guarda che... che bello Ok Stronzate a parte Non abbiamo fatto vedere le squadre ora che ci penso Allora Nel frattempo Anche se abbiamo detto che gli starter Blah, 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 blah Io ho preso tutti e tre gli starter se non mi sbaglio Vabbè, quindi abbiamo War Total Ivy Zorn Non voglio di far vedere Poi chiaramente PG-8 Ehm... Cosa qui Ehm... Charmeleon Che finché non arriva tipo al 50 farà cagare a merda proprio The Sega Pikachu E... Jotaro E volevo dire Nido King Che è tipo picco della merda però vabbè Senti un po', io mi sono ritrovato a un War Tortor che si chiama Pizzeria Mamma mia Pizzeria Ehm... Ehi Paco ma li senti anche tu i glitch di Mew Che schifo i Pokémon lavatrice Ehm... A proposito di Pokémon belli Guardate che bel figurino che abbiamo qui E cos'è un... Victory Bell, un Bell Sprout? No allora quelli lì sono veramente belli Questo qui è un... 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 Che giustamente doveva avvelenarmi altrimenti non è contento Ah io c'ho tutti gli allenatori in parte Sì ma lo sai che io ci metto vent'anni perché devo cazzeggiare Velocizza Ma non mi dire sto andando tipo a 4.000% Oddio Gloomera tutto rosso? Era fattissimo No è comunista Ripo Allora Così non riesco bene a allenare i Pokémon Come cazzo fa Avon A giocare così Mi lo deve spiegare Aia Ehm... Ehm... Quando mai non crita Non ho... Non ho pozio... Non ho... Non ho... Ah sì Ho due super pozioni Per favore non essere così cattivo con me C'è Bebbo che mi è svenuto Sulla porta del centro Pokémon E nel momento in cui stavo entrando è svenuto Ma porca di... E il mio giocatore è praticamente rimasto sospeso sulla porta E' magnifico Che bella la generazione Che bello Soprattutto quando dormi Cazzi E ti fanno avvolgibotta E beh... Però ricordiamoci che è sempre bello Allora E certo Tra siamo contro Erika Ne 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 Te 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 ne 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 Ehm... Io in realtà sto tirando giù cosi Senza nemmeno sapere che cazzo stia facendo Io sto tirando giù T'Angela A forza di Sanguisuga Allora Facciamo una cosa intelligente Do cazzo sto andando? Sono andando troppo veloce per i miei standard Ah già Siamo ad azzurro Ah io ho vinto Io sto ancora cazzeggiando qua nella piazza senza fontana Però... Eh gran cavoli tuoi sinceramente C'era il tizio che è entrato sulla porta Cioè era sulla porta E non... Oh... Perché l'ho rivolcizzato Non voglio il super repellente Lo stavo comprando per davvero Allora Ho tanti di quei soldi Perché non ho comprato mai niente Probabilmente Dovrei andare a prendere la lattina Ah già la lattina Andiamo Già che siamo qua Cos'era le monade? No... È fresh water Vaffanculo Coligone Fa zitto E il pacco E che cazzo Non ci sta Cosa vuoi? Coglione Coglione Ci sono quasi Se la posso fare? Ok Andiamo dalle guardie di merda Io non penso di riuscirci entro quest'anno solare Perché porca troia Sto morendo Non dovremo andare al rifugio rocket Ora che ci penso Ehi non toccare il poster qui dietro Va bene Non lo toccherò sicuramente Eh perché è un poster dei One Direction Che schifo la vita Ma esistono ancora Tra l'altro Oh da quando il Lo jihadista Ha lasciato la band Pensavo fossero sciolti Però Ah ok E invece Basta Ma basta 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 con avvolgibotta Ma siete dei senza pa Vabbè siete dei Sì effettivamente Sono delle ragazze Fulvio sessista Ipnosi Critico Io sulle cuffie Ogni volta che fai quei suoni Mi esplodono le orecchie Sappilo Sai ce ne ho anche io Sì ma sono io a sentire La tua voce Ok Paco Che cosa vuoi Coglione Smettila di fare il plesiosauro E va avanti Le orecchie Cristo Madonna Pikachu Ti devi levare dai coglioni Ti deposito Se non la smetti Addirittura Veloce 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 Devo andare veloce Eh sì Già Sanic Però non puoi scappare dal dolore Sto cercando di allenare Super Mario contro il Team Rocket Ma puntualmente mi crittano Stai zitto Sono un idiota No 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 Non sei un idiota Tu sei un cagione Cioè renditi conto che qui usare taglio non è ignobile Perché è una delle poche mosse normali decenti Oltre a Bodyslam Voglio dire Sì No uno strumento Eh te pareva Non ho spazio Vediamo un po' di buttare in utilità Tipo Ma vaffanculo Ma guarda un po' Oh è comparsa questa palla Quella è Sei già rifuso Rocket? Sì Brava Mi tocca usare le Rare Candy su qualcuno a caso Andiamo a affrontare Giovanni Oh Jesse James No mi ha fatto disabile Sono diventato Avo Oh no Signora Ciao Ciao Sono Guardtorto Dal 31 Imparo ritirata Forte Signori Il meta È ritirata Tra l'altro Giovanni è un pezzente Perché mi ha dato 58 pokémonei E basta Sì Grazie a tutti.